E la mostra di Steve McCurry organizzata dalla Fondazione Molise Culture e dagli animatori di Poietica Campobasso ha chiuso i battenti registrando il massimo gradimento dei numerosissimi visitatori. Vediamo. Sono stati precisamente 12.155 i visitatori che nei tre mesi dall'estimento hanno visitato l'esposizione con i lavori di Steve McCurry, uno dei più famosi ed importanti maestri della fotografia nel mondo. La mostra è stata un'iniziativa voluta ed organizzata dalla Fondazione Molise Cultura, una realizzazione maturata in seguito alla presenza del grande fotografo negli incontri costruiti dagli operatori di Poietica, una kermesse culturale che da alcuni anni si organizza a Campobasso e in altri comuni molisani, diventando un punto di riferimento nazionale ed internazionale. La mostra di Steve McCurry è stata fortemente visitata. L'importanza dei suoi lavori ha sicuramente attirato i visitatori che hanno potuto godere in pieno dei ritratti e degli scenari catturati dall'occhio fotografico di un grandissimo artista. Un viaggio nel mondo, questo delle persone che si sono regate nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura, toccando così luoghi e volti inusuali, potendo conoscere attraverso gli scatti magnifici del maestro statunitense alcune storie non comuni, avvicinandosi a popoli lontani, geograficamente e culturalmente. Un percorso davvero molto interessante che ha trovato l'entusiasmo degli organizzatori a partire da Antonella Presutti e Valentino Campo e soprattutto dalle migliaia di persone che hanno voluto essere lì, davanti a quelle fotografie che dire bellissime e dire poco.